Dorazio, a poche ore dalla venuta in Abruzzo a Montesilvano del presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, lei ha inviato proprio una lettera alla Meloni chiedendo di sostituire il candidato presidente del centrodestra Marsilio. Perché? Io ho una posizione su questo punto nota da mesi e mi hanno detto già da novembre che era una cosa che non si poteva modificare. Sono cose strane perché io penso che di fronte a cose ragionevoli si deve sempre usare la testa e non delle impuntature che non portano da nessuna parte. Abbiamo anche provato a farlo conoscere, a farlo entrare, però io ho riscontrato delle difficoltà oggettive e la candidatura di Marsilio è stata oggetto di un discredito totale da parte di Forza Italia, della Lega e anche da parti consistenti di Fratelli d'Italia. Insistere su questa cosa sapendo perfettamente che il tema dei paracadutati in Abruzzo è stato così devastante anche nelle politiche da sempre, credo che sia un errore fondamentale. Pensare che la gente voti la lista e non pensi al presidente che deve eleggere, che di fatto è il sindaco di questa regione, è un errore incommensurabile. Noto sfiducia, scoramento e noto che tanta gente che prima si era avvicinata e che voleva magari anche candidarsi nelle nostre file adesso sta prendendo le distanze. È un segnale inequivoco e io quindi ho lanciato un grido d'allarme pubblico, perché se no le lettere vengono gestinate, ti dicono di sì, una pacca sulla spalla e poi finisce lì, per dire se potete cambiate. I tempi ci sono, basta una videoconferenza tra i leader nazionali, ce ne sono almeno dieci candidati in Abruzzo che possono fare non meglio, ma di gran lunga meglio di questa candidatura, che io non giudico negativamente sul piano personale perché è un'ottima persona che ho conosciuto in questi giorni. Si sta impegnando in alcune cose dell'Abruzzo, può essere anche un senatore di riferimento se ha intenzione di stare qui da noi, perché noi ci mancano anche i politici che ci danno una mano a Roma. Lui potrebbe fare questo ruolo per cinque anni e poi magari potrà presentarsi, fare quello che vuole. Ma in questo momento oggettivamente mi sembra che sia una presa in giro degli abruzzesi e credo che questa cosa venga pagata duramente. Il centro-destra, così com'è, non va avanti, non va da nessuna parte. Ma quale sarebbe, secondo lei, l'identikit del candidato giusto per il centro-destra? Proviamo a fare qualche nome. Ma sì, la Lega c'ha D'Eramo, spero che Bellaghioma non voglia farlo pure lui perché altrimenti mi pare che non ha l'esperienza adatta. Per quanto riguarda Forza Italia c'è Martino, c'era il mio amico sindaco di Chiedi che sarebbe stato un ottimo candidato, adesso non è stato candidato. In Fratelli d'Italia secondo me c'era un unico candidato che era per Luigi Biondi. Non so cosa si sono detti con la Meloni, lui è andato lì pensando di poter essere candidato e è tornato proponendo Marsilio. Io non so quali sono stati gli accordi, ma è un dubbio errore sia nel non candidare lui sia nel fare accordi su un nome che oggettivamente non tira.